Ciao ragazzi fantastici, in questo video parliamo di come trovare prodotti ad alta domanda su Amazon ma soprattutto lo vedremo da un punto di vista diverso, quindi non solo gli strumenti di ricerca come può essere Black Box che magari ti possono aiutare a trovare prodotti ma quali sono i ragionamenti importanti da fare quando cerchiamo dei prodotti che hanno un'alta domanda. Allora vediamo insieme e prima di partire ti voglio invitare a fare un bellissimo giochino con me cosa devi fare? È molto semplice, prima di tutto devi seguire attentamente fino alla fine questo video poi cosa succederà? Succederà che riceverai un regalo, un bonus molto speciale che potrai scaricare seguendo le istruzioni in descrizione, quindi ti darò due pezzi di codice, tu li metterai insieme seguirai le istruzioni e boom ti porterai a casa il tuo regalino. Allora come ti dicevo ci sono degli strumenti classici per cercare nuovi prodotti su Amazon che hanno una domanda interessante e quindi prodotti poi profittevoli come Black Box per esempio di Helium 10 e così via. Qui qual è il concetto dietro? Non è che andremo ad analizzarlo in dettaglio però devi capire il concetto dietro. Il concetto dietro è che Amazon ha questo database di prodotti, il software tramite le API quindi tramite delle porte che Amazon apre per i software esterni si collega al database di Amazon, tu imposti i parametri come i volumi di fatturato, il prezzo minimo, prezzo massimo, il numero di recensioni minime e massime, il rating e così via e poi cerchi questi prodotti per cui questo è un modo per trovare. Quali sono però le considerazioni che voglio fare con te in questo video? Sono le seguenti. Allora io ho già preparato quattro esempi di prodotti quindi asciugamano mare, colomba di Pasqua, guanti moto e racchette da paddle. Se noi facciamo get keywords quindi andiamo a vedere le ricerche per queste parole chiave, per queste parole chiave cosa succede di interessante? Allora succede una cosa molto interessante per cui vediamo questo innanzitutto, guanti moto vediamo che ha tra tutte le ricerche più alte. Ma quali sono i ragionamenti importanti da fare dietro? Vedi che c'è una crescita quindi il trend degli ultimi 30 giorni è positivo, c'è un più 31 quindi questa è la prima lampadina che ci segnala che comunque è una cosa interessante e il trend è positivo. Però a noi quello che interessa oltre al volume di ricerca che sicuramente è molto importante è vedere il trend generale del prodotto. Quindi clicchiamo su questo grafico e qui vedi che puoi selezionare 30 giorni, ok? 90 giorni, interessante quindi sta crescendo perché ovviamente andiamo più verso la stagione calda, un anno per vedere come cambia durante la, oppure old time quindi addirittura su un periodo più lungo. Cosa c'è di interessante per questo prodotto? Allora il primo aspetto è che stiamo parlando di un prodotto che non è un prodotto stagionale e basta, cioè si ha degli alti e bassi per cui c'è una certa stagionalità per logica dovremo vendere un pochino di meno d'inverno, giusto? Perché comunque ci sono dei motociclisti che girano d'inverno però meno, io stesso per dirti sono un motociclista però uso solo nella stagione calda, quindi come me ci saranno tanti, poi ci sono quelli super appassionati che girano sempre. Però la cosa interessante è che è un trend crescente a prescindere, quindi vedi che rispetto al 2019 abbiamo, vendiamo più guanti? Ora perché? Bisognerebbe capire magari c'è più gente che va in moto però questa cosa è molto interessante per cui vedo non solo che posso vendere comunque bene o male tutto l'anno questo prodotto anche se ha dei picchi di stagionalità ma che comunque è un trend crescente. Benissimo, cosa succede invece con la colomba di Pasqua? Allora vediamo che c'è un calo degli ultimi 30 giorni perché? Perché ovviamente le festività di Pasqua sono passate e di conseguenza c'è un calo, è normale. Tu immaginati ora se noi avessimo guardato questo prodotto proprio durante il periodo di Pasqua. Avremmo visto un picco pazzesco, avremmo visto qua una percentuale molto alta di trend e quindi avremmo detto eccolo, eccolo il prodotto perfetto. Invece no, avremmo fatto un errore. Avremmo fatto un errore perché questo è un prodotto stagionale. Quindi se era una cosa pensata strategicamente di dire voglio vendere le colombe di Pasqua, mi organizzo in anticipo e arrivo a venderne tante per Pasqua, quello ci sta. Ma se invece la vedo come un prodotto da vendere tutto l'anno avrei fatto sicuramente un flop. Vediamo infatti i trend anche più a lungo termine. Se vediamo il trend all time effettivamente ci conferma il nostro ragionamento. Quindi tutto l'anno poco niente boom a Pasqua, poco niente boom a Pasqua perché è un prodotto altamente stagionale. Quindi dobbiamo stare molto attenti a questo. Per cui ripetendo il ragionamento se io comincio a prepararmi qui perché voglio sfruttare questo picco ci sta. Se invece io ho visto il picco e dopo mi ritrovo qui è ovviamente un problema. Devo aspettare l'anno prossimo per vendere ancora questo tipo di prodotto. Andiamo a vedere l'asciugamano mare. L'asciugamano mare che ha un trend in crescita adesso perché ovviamente stiamo andando verso la stagione estiva. però vediamo cosa fa in generale. È in generale è un po' il solito discorso. Anche qui un po' simile alla colomba. Attenzione diverso dalla colomba perché? Perché la colomba ha un picco molto stretto di stagionalità. Va nel periodo di Pasqua e basta. Invece la stagionalità dell'asciugamano da mare è molto più ampia. Per cui in questo caso vedi che abbiamo tipo da maggio fino a settembre possiamo tranquillamente venderlo e poi dobbiamo andare l'anno prossimo. Qualcosina si vende eccetera. Questi saranno i tizi che si comprano l'asciugamano mare poi vanno d'inverno in Egitto magari. Però diciamo che bene o male il grosso è qui. Interessante interessante. Ovviamente se è una cosa che studiamo strategicamente qui per poi finire qua va bene. Se invece abbiamo visto i volumi di vendita qui compriamo un container di asciugamani dalla Cina e poi ci troviamo qui senza accorgetene senza strategia ovviamente anche qui abbiamo fatto un errore molto importante. E poi vediamo le racchette da paddle. Le racchette da paddle. Allora gli ultimi 30 giorni più 93 per cento di trend quindi positivo interessante. Bene. Vediamo anche quello che succede qui. Allora anche qui all time e qui è una cosa effettivamente molto interessante. Vedi che c'è allora innanzitutto potremmo dire che ha dei picchi di stagionalità un po' meno violenti però nello stesso tempo vediamo che c'è comunque magari più una propensione magari quando c'è più caldo immagino anche qui. Ok però la cosa bella fantastica è che c'è un trend positivo in generale. Quindi vedi qui c'è proprio una diffusione di questo trend per cui questo è un prodotto molto 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 interessante. All right. Allora cosa facciamo adesso? Adesso guardiamo per esempio qui. Vedi se noi scriviamo guanti da moto e andiamo con Helium 10 a vedere un pochino i risultati. Allora quello che succede è che oltre a quello che abbiamo visto noi c'è anche il success score quindi una valutazione della probabilità di successo che abbiamo con quel prodotto per cui qua abbiamo un 17. Ma a volte appunto se tu andassi a vedere la colomba di Pasqua proprio nel picco della stagionalità quindi durante le festività di Pasqua magari vedresti qua un numero molto alto quindi basarti solo sul success store del software è molto limitante. Da questo punto di vista abbiamo visto che è meglio che ci guardiamo i vari trend qui e capiamo bene come funziona. Bene. Stessa cosa se facciamo per esempio con la colomba pasquale in questo periodo che ormai abbiamo superato la Pasqua quindi siamo più o meno nel periodo di maggio anche qui vediamo che sta vendendo ancora qualcosina negli ultimi 30 giorni perché magari abbiamo preso anche un po' gli ultimi giorni insomma o comunque il dopo Pasqua però ovviamente metterci a venderlo adesso può essere sicuramente rischioso. L'asciugamano da mare facciamo un controllino anche qui su cosa ci dice lo score di Helium 10 e vediamo un attimino le informazioni che ci dà. Qui ha un success score del 15 però i volumi sono interessanti e magari stiamo crescendo perché stiamo andando verso la stagione estiva. E poi le racchette da paddle vediamo anche qua cosa ci dà come dato interessante e qui ovviamente vediamo che c'è un success score più alto quindi sia i volumi ci sono sia c'è un success score più alto quindi effettivamente può essere una nicchia interessante da considerare. Qual è l'altro consiglio che ti voglio dare? Allora prima di tutto ti voglio fare un applauso e ti voglio dare il primo pezzo del tuo codice che tu sei stato grandissimo e te lo sei veramente meritato. Allora segnatelo il primo codice fa Bologna Otranto Napoli quindi è Bon segnatelo giù che è molto molto importante. Bene adesso vediamo anche un altro strumento che è Google Trends che puoi utilizzare quindi quello che faremo faremo un giochino molto semplice per cui andremo ad analizzare queste parole chiave con Google Trends. Le inseriamo qua all'interno bene asciugamano mare e la cosa a cui dobbiamo stare molto attenti è anche qui innanzitutto filtrare diciamo per tutto il periodo così vediamo se anche Google Trends ci conferma bene o male quello che abbiamo visto anche su Helium 10 per cui si ce lo conferma vediamo degli alti picchi distogenerialità però vediamo anche che nel tempo per dire qui c'è stato un boom di asciugamani da mare. Bene andiamo avanti e vediamo anche l'altra parola chiave sempre con Google Trends così facciamo anche un confronto e vediamo un attimino quello che succede. Allora qui cosa succede? Succede che abbiamo dei fortissimi picchi vedi addirittura rispetto all'asciugamano da mare qui abbiamo molte più vendite e anche qui c'è stato un picco un picco molto interessante molto molto interessante. Andiamo avanti con l'altra parola chiave i guanti da moto così possiamo vedere sia i volumi in termini assoluti perché perché in termini assoluti perché vediamo diciamo quali sono proprio anche rispetto ad altri prodotti per cui i guanti da moto che sono segnati in giallo vediamo vedi che hanno comunque degli alti e bassi ma un po meno rispetto alla colomba e anche meno rispetto all'asciugamano perché perché come dicevamo oramai essendo anche in Italia un paese con un clima abbastanza mite i motociclisti possono usarla moto anche tutto l'anno quindi ci sono quelli come me che magari la usano soprattutto nella stagione estiva però ci sono tanti e quindi è un è un prodotto che potremmo dire che ha comunque degli elementi di stagionalità però nello stesso tempo può essere utilizzato un pochino anche un po durante tutto l'anno e l'altro prodotto che andiamo a vedere se non l'abbiamo ancora visto queste sono le nostre famose racchette da paddle quindi vediamo anche qui cosa ci dice il software e segnato in verde allora proviamo a togliere tutto il resto per vedere perché vedi rispetto a tutti gli altri prodotti ovviamente ha meno volume di ricerca però se noi togliamo queste paroline qua quindi facciamo remove qui e le togliamo e ci resta per esempio solo le racchette da paddle vediamo una cosa interessante vedi che qua c'era poco niente qua comincia e qua sta crescendo per cui vuol dire che è un trend effettivamente in crescita molto interessante quindi cos'è che abbiamo visto qual è il succo un po di questo video le cose più importanti principali da portarti a casa che sicuramente guardarti lo score come abbiamo visto qua può essere interessante però lo score da solo è riduttivo perché perché se tu lo guardi nel momento sbagliato ovviamente può essere un problema quindi oltre allo score devi considerare sicuramente il trend negli ultimi 30 giorni ma non solo devi anche guardarti il trend per esempio negli ultimi 5 anni quindi su un periodo più lungo e poi sicuramente anche i volumi di vendita oltre a Helium 10 abbiamo visto che è molto interessante anche guardare questi trend tramite google trends e addirittura metterli a confronto e vedere anche i volumi rispetto di un prodotto rispetto ad un altro per cui io ti voglio fare un grandissimo applauso ti voglio dare anche il secondo pezzo del codice il secondo pezzo del codice fa udine savona ancona 21 con questo codice segui le istruzioni in descrizione e non dimenticarti ovviamente di iscriverti al nostro canale se questo video ti è stato utile ciao ti mando un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao iscriviti al canale